Non perché prima non lo fossimo, ma caliamoci nell'habitus di chi parla di economia e di territorio perché parlavamo prima di ristorazione però c'è tanto altro, adesso ci spostiamo sulla piana di Gioia Tauro dove Macingo è una start-up straordinaria legata al mondo della logistica e dei trasporti ha spiegato come insomma giovani imprenditori possono poi in qualche modo fare il crack in senso positivo e rendersi partecipi di percorsi virtuosi anche durante periodi di difficoltà economica come quelli derivanti dalla pandemia e noi salutiamo una delle anime di questo progetto, Samuele Furfaro, buonasera Samuele Buonasera, buonasera a tutti Grazie per aver accettato il nostro invito anzitutto Grazie a voi per avermi coinvolto E allora ti chiediamo, chiaramente il nostro pubblico probabilmente non è diciamo molto avvezzo mettiamo una parola che ultimamente su queste frequenze si sente molto diciamo a ciò che riguarda trasporti e logistica ci spieghi esattamente di cosa tratta la vostra start-up, di cosa vi occupate e come avete vissuto questo momento, questa fase di pandemia insomma di crisi Brevemente Macingo è un marketplace, ovvero un sito web che mette in contatto chi ha bisogno di trasportare merce voluminosa, quindi un'auto, una moto ed effettuare un trasloco oppure prodotti per l'industria con quei trasportatori che compatibili da un punto di vista geografico e merce logico hanno ancora spazio a bordo noi facciamo appunto sul sito un matching, un incontro virtuale tra domanda e offerte di trasporto il cliente senza attaccarsi al telefono per trovare un trasportatore trova subito un'offerta in tempo reale sul nostro sito e acquista il trasporto ormai come si suol dire con un click mentre il trasportatore, insomma tutto quelli del sud che hanno il problema del viaggio di ritorno a vuoto si connettono alla nostra rete, al nostro sito per riempire i loro mezzi e non viaggiare più vuoti questo è in sintesi quello che facciamo quindi siamo un marketplace, operiamo il settore della logistica e cerchiamo di rendere facile l'esperienza dell'organizzazione dell'acquisto del trasporto di merce in modo veloce, intuitivo, appunto facile come se si stesse prenotando un biglietto aereo o un'assicurazione piuttosto che un passaggio con blablacarra appunto sul web Ecco, com'è cambiato il vostro modo di operare se è cambiato in questo periodo di pandemia? Ma diciamo che non ci sono stati grossi travolgimenti anzi il fatto di essere presenti sul web già da diversi anni il fatto di essere quindi operativi online ci ha permesso di affrontare la pandemia in modo più sereno e di essere quindi in qualche modo preparati a questi cambiamenti che ci sono in atto appunto da un anno a questa parte il mondo si è ulteriormente digitalizzato e noi fortunatamente stiamo cercando di cavalcare questi cambiamenti dell'era digitale già da diversi anni noi, giusto per dare ecco un numero abbiamo chiuso in 2020 con un più 40% di fatturato nonostante la pandemia per quale motivo? perché la gente stando a casa si è abituato ulteriormente al web, ad internet quindi nel momento in cui deve ricercare un trasporto lo fa direttamente su web molto più di come lo facesse prima noi abbiamo raddoppiato i nostri utenti unici mensili che arrivano ormai a quota 100.000 proprio perché la gente stando a casa si è abituata appunto ad utilizzare internet anche per questi servizi Ciao Samuele Emilio Lupis l'esplosione tra virgolette degli acquisti online ha in qualche modo influito sulla vostra attività questa è la prima domanda la seconda visto che hai detto bene cioè spesso tornare al sud per un mezzo pesante è un problema se questo mezzo pesante viaggia a vuoto qual è la regione dalla quale riscontrate più utenza? Allora sulla prima domanda posso assolutamente confermare quello che insomma tu hai poco fa afferito ovvero che c'è una correlazione diretta positiva tra il boom degli acquisti online e poi i trasporti quindi questo è un fatto indivocabile senza un pridubbio sta succedendo questo se acquista di più su internet quindi poi è necessario trasportare di più un esempio su tutti di recente abbiamo stretto una collaborazione con subito.it il portale che si occupa della vendita di auto online è naturale che il mercato che abbiamo usato rispetto al nuovo sta crescendo in modo esponenziale in Italia di conseguenza le richieste di trasporto per le auto usate aumentano dello stesso livello per quanto riguarda invece il problema dei trasportatori noi nasciamo al sud abbiamo sede a Polistena nasciamo perché avevamo un problema di natura personale con un'altra azienda di famiglia avevamo il problema dei trasporti però lavorando online il nostro mercato di riferimento è quello di tutto il territorio nazionale e la grande maggioranza delle richieste di trasporto nonostante abbiamo sede a Polistena comunque arrivano dalla Lombardia da Piemonte dal Lazio ovvero dove c'è una maggiore concentrazione di aziende e persone certo quindi finalmente potremmo dire che il sud lavora per il nord cioè nel senso il polo produttivo quasi si è invertito grazie a questa vostra intuizione anche se poi ovviamente le merci le fanno loro mettiamola così ma diciamo che questo è il grande vantaggio del digitale il digitale abbassa le barriere abbassa i confini quindi basta stare online e si è presente in tutto il mondo è chiaro è chiaro Samuele una domanda da parte mia prima di lasciarti alla conclusione con Emilio ci aspettano tempi complessi tu come pensi si possa sia da un punto di vista economico sociale culturale ci sono modelli che andranno rivisti modelli di carattere umano anzitutto oltre che poi di carattere economico ti domando ti faccio una domanda un po' più complessa ma ti conosco personalmente so che saprei rispondere nella maniera più opportuna e precisa per come riterrai ecco in un tempo in cui sentiamo anche l'ospite precedente la socialità è diventata merce preziosissima come potrà il web in futuro salvaguardare comunque la necessità di socialità da parte delle persone cioè se anche il commercio si sposta dal contatto diretto tra persone a piattaforme informatiche se anche come dire le pandemie il periodo dei virus o comunque la diffidenza tra persone l'isolamento l'allineazione di persone nelle grandi città ti porta ad una sorta di solitudine il web avrà un ruolo di socializzazione avrà anche questo tipo di ruolo culturale sociale di aggregazione in qualche modo secondo te ma diciamo che in parte questo si sta già verificando è già in atto adesso e proprio grazie al web il web in qualche modo durante questa pandemia ci ha salvato ci ha tenuto in contatto ci ha permesso di continuare a lavorare se pensiamo all'esplosione dello smart working piuttosto che alle piattaforme come Zoom piuttosto che insomma quelle di Microsoft o Google Meet comunque è stato il web che ci ha permesso di continuare a fare quello che facevamo prima anzi per certi versi anche ci ha permesso di migliorare sotto diversi aspetti e di essere anche più efficienti io prima della pandemia ogni due settimane dovevo prendere un volo per farmi a Milano a Roma per fare degli incontri ora invece in un'ora hai fatto quell'incontro ti sei detto quello che ti dovevi dire quindi da quel punto di vista un'efficienza estrema è naturale è naturale che non bisogna non bisogna esagerare perché se i contatti vengono in qualche modo limitati e portati allo zero è naturale che poi ci possono essere delle conseguenze negative ma è proprio in questa pandemia che è emersa la forza del web poi purtroppo ci sono stati degli abusi pensiamo al caso oppure ai casi eclatanti che sono stati che sono stati suscitati da TikTok che hanno coinvolto purtroppo dei bambini e quelli sono poi dei casi estremi che vanno in qualche modo controllati però questo poi riguarda un altro discorso perché i bambini stanno sempre col cellulare perché i bambini a data di TikTok li vediamo sempre attaccati ai dispositivi questo è poi un problema culturale che va sicuramente tenuto diciamo a bada è chiaro Emilio io adesso l'ultima curiosità l'ultima domanda magari ci hanno già pensato però questa bella storia di Samuele la sto conoscendo adesso sempre ritornando al discorso di un camion che magari parte dal porto di Gioia Tauro arriva a Milano scarica quello che deve scaricare e non torna indietro vuoto come hai detto tu questo vuol dire che c'è anche un impatto ambientale quindi cioè alla fine la vostra start up in qualche modo guarda anche all'ambiente avete pensato magari ripeto magari già ci avete pensato e quindi ci potrei illustrare come ha qualche tipo di collaborazione con associazioni che si occupano di tutelare l'ambiente per in qualche modo come dire incentivare ancora di più l'utilizzo di un'idea come la vostra perché effettivamente un camion che viaggia pieno sicuramente fa risparmiare un bel po' di CO2 anziché pensare un camion rosso che parte vuoto e dopo due ore parte quello blu pieno ecco allora diciamo che questo sicuramente è un po' rappresenta un elemento un'esternalità positiva del nostro sito del nostro marketplace perché di fatto è come dici tu mettiamo le merci sullo stesso mezzo facciamo viaggiare i camion a carico intero non vuoto quindi riduciamo il numero di mezzi sulla strada inevitabilmente c'è un risparmio di CO2 di recente abbiamo condotto uno studio di ricerca e sviluppo con l'Università della Calabria e abbiamo calcolato che il nostro sito ha permesso di risparmiare 836.000 kg di CO2 nel 2020 quindi effettivamente c'è un effetto positivo l'ambiente va salvaguardato e sistemi come questi sicuramente puntano a questo risparmio e a salvaguardi in generale dell'ambiente poi è naturale che coinvolgere le associazioni abbiamo avuto qualche tempo fa un contatto con collegamenti ancora in Italia stiamo un po' indietro rispetto a quello che sta succedendo per esempio negli Stati Uniti o in Inghilterra però di base si sta andando verso quella direzione bene grazie Samuele no grazie solamente un saluto ringraziamento a Samuele Furfaro sempre disponibile una realtà positiva del territorio calabrese buon lavoro Samuele una buona serata grazie anche a voi a presto un saluto a tutti ciao buona sera grazie